L'artista esistenziale sta buon giorno a tutti, riflessioni sul mondo di riferimento, in particolar modo come spesso accade, l'ho detto in altri video, è su Agnelli e Nedved. Agnelli in particolar modo parliamo del 3-9 dicembre, valutazione degli azionisti e quant'altro. Nedved io credo un altro anno di contratto ma non cambia niente, nel senso che poi tante valutazioni verranno fatte ora, adesso, in questo momento, a fine anno. Allora, Agnelli credo che possa avere magari qualche chance, se si ridestra di nuovo l'idea della Superlega, dopo l'errore grossolano di Ceferin, se magari alcune situazioni vengono risolte, ci vuole il grande no, il grande attaccante, Orho, bisogna vedere se lui va su Icardi. Io credo che un nome a sorpresa potrebbe essere Lewandowski, perché? Perché Lewandowski, 33 anni, è un giocatore, ambito da tanti club, se la cifra dell'ingaggio da qualche altra parte è di più ok, sempre se lascia il Bayern. Un 2023, 50 milioni di euro, l'anno prossimo 15 milioni di euro in gaggio annuale, decreto crescita, parliamo di un 40%, vai sui 6 milioni di euro, gestibilissimo. Quindi potrebbe essere un'occasione buona se si sbloccasse. Edved, stesso discorso, guardate caso, di sindaco non sospetti, stesso discorso di Agnelli, ci vuole qualche amico che ti roglie le castagne dal fu, Raio, l'incontro di ieri, 22 ore fa, un tot di giorni, una giornata, sono passate, poco nulla, era nell'aria. Quindi possiamo parlare di tutto quello che volete, possiamo parlare di Mullen, possiamo parlare di Calafiù, di giocattino in prospettiva, la Juve ha bisogno di nomi, e quei nomi sappiamo che possono essere Romagnoli, Sicuro, Pogba e quant'altro, quindi qualche nome di spessore. Chiaramente, ripeto, sono situazioni in divenire, e credo che se la Juve è brava, e a questo punto di vista dovranno fare il possibile, magari a dare via Coluseschi 30-35 milioni di euro, 35 o 30 più, 5 di bonus, ok, a magari riuscire a vendere, non a svendere, attenzione, a vendere Rabiù, che comunque è un parametro zero a qualunque cifra, tu ci guadagni e vai comunque a plus valenza. Ramsey, i casi estremi, quel contratto lo stralci e lo mandi via, però ripeto, toglie a bilancio 7 milioni di euro, nei casi Rabiù, 7 milioni di euro nei casi Ramsey, voglio dire, sono cifre comunque abbastanza alti, importanti, per poter fare comunque anche un calciomercato per il futuro in prospettiva abbastanza positiva, ripeto, ci sono le teste di Agnelli per fin l'anno che rischiano di non rimanere su quella coltrona, quindi se non trovo una idea di guadagni alleati, sarà tremendamente difficile rimanerci, questa è la mia idea, l'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.